Con noi è il vincitore del Festival Museo Lutturo del 2007, il cantante è il Piavone, il Piavone, il Piavone, il Piavone. Cosa si prova a vincere in questo festival? È una grandissima soddisfazione, ma credo che sia una soddisfazione che abbiano avuto anche gli altri sette in gara. Poi in questa serata qua in particolare, insomma, finalissima questa manifestazione che definisco straordinaria, in quanto va la possibilità alla canzone d'autore di esprimersi, di poter arrivare a tanti, quindi a nome del gruppo posso dire che siamo veramente soddisfatti, comunque vanno le cose. E a livello di tensione come va? Adesso meglio, adesso meglio, una sera abbiamo aperto la serata e con tre bicchieri di vino sono riuscito poi a smorzarla e a prendere l'equilibrio naturalmente. Noi abbiamo il tensionometro per vedere quanta tensione c'hai, praticamente devi spingere e vedere a quanto arrivi. Non è l'elitometro, questo è il senso. No, 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 no. È una cosa seria, felicitamente. 28? No, non è possibile. Un bambino? Sì. Posso fare di più? 38? 38? Eh, no, non lo bene. È fatto pure la scala di Pilar, c'è 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 la scala di Pilar. Leggio di Pilar, ecco. Ha fatto 50, ma è quando ero di Pilar, non è lì. Abbiamo fatto un po' di età, ma è che è capitato. Passerei subito la consegna del premio, che è il momento più importante. Il vincitore ufficiale della manifestazione è il premio della Musicultura 2007. Da Graus. Devo prendere come un tapiro, è una cosa seria. Devo prendere come un tapiro perché è un premio del premio. Grazie, grazie mille. Grazie.